Ciao a tutti, sono Jarno Trulli, siamo qui ad Adria per la Rock Cup Italia. Per noi è un appuntamento importantissimo perché, come sapete, la Rock, soprattutto per quanto riguarda mio figlio e la minicart, rappresenta un appuntamento forse più cruciale assieme alla finale internazionale. Perché? Perché è una categoria molto livellata, con i motori tutti uguali e quindi per noi è fondamentale esserci perché possiamo così capire anche il livello dei piloti e in questo caso anche di mio figlio. Sarà sicuramente un appuntamento da non perdere, ci saranno tanti piloti non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale che poi verranno chiaramente anche per la finale internazionale.